Oggi, ed è questo soltanto il primo assaggio di quello che potremo fare a Pietrasanta per Pietrasanta, dal Senato abbiamo lanciato gli eventi dell'estate 2018, abbiamo spiegato che Pietrasanta è il centro culturale internazionale per quanto riguarda la scultura, dall'anno scorso la danza, da sempre il teatro, la prosa e ovviamente l'attualità. Dalla sala stampa del Senato, dalla sala Nassiria, abbiamo dato un messaggio chiaro che è quello che con le carte in regola si portano a casa grandi risultati. Io metto a disposizione il mio lavoro, la mia esperienza, la mia conoscenza e lo metto a disposizione di tutta la comunità di Pietrasanta, lo metto a disposizione di tutti coloro i quali hanno creduto in me e hanno creduto in noi in tutti questi anni. Come vedete già ci sono i primi esempi, oggi una sala stampa gremita di giornalisti qualificati con televisioni nazionali che hanno ripreso questo evento, perché dobbiamo valorizzare il nostro territorio, noi dobbiamo portare lavoro, noi dobbiamo portare occupazione, noi dobbiamo portare sviluppo e solo attraverso queste iniziative con la struttura e la caratura delle cose che noi facciamo sul nostro territorio lo possiamo fare. Quindi da qui parte un percorso virtuoso che porterà a Pietrasanta ovviamente tante persone, tanti turisti, coloro i quali avranno voglia di vedere e toccare con mano quello che il nostro territorio da anni offre e forse oggi con questa promozione potrà offrire ancora di più e potrà raccogliere i frutti che in questi anni merita di poter raccogliere.